Eccoci qui con i Los Merengues, la squadra di Vincenzo Capasso, la prima finalista in questo torneo San Nazaro in serie e appunto andiamo da Vincenzo, dici insomma se vi aspettavate di arrivare fin qui, se magari questa doppia vittoria fortuita se magari giocata sul campo poteva mettersi diversamente per voi? Non penso, però è stata una vittoria combattuta fino alla fine con un grande squadra di Lucky Lions che ci dispiace per la nostra e il loro abbandono Vediamo anche il Presidente onorario Come va, va Va, va Andiamo, va No, va bene, allora sentite, allora adesso probabilmente affrontete Young Boys che stanno giocando in questo momento la gara di ritorno in vantaggio per tre gol, diciamo temete questa squadra, pensate che possa essere più favorita di voi? No, sinceramente no, dopo i tavolini e le sedie possono vincere Va bene, c'è qualche giocatore che temete in particolare su cui rafforzare la marcatura nella gara di finale Iraya Iraya probabilmente è quello che temete di più Allora c'è insomma qualche... Però una cosa, noi non dobbiamo avere paura di loro Loro devono avere paura di noi Va bene, allora su questa sfida lanciata da Capitan Capasso facciamo un applauso a Ross Merengues In bocca al lupo e appuntamento alla finale, non mancate